Eventi letterari del Monte Verità di Ascona, edizione numero 10, il programma con il direttore artistico Paolo Di Stefano, venerdì 8 aprile al Monte Verità, si apre alle 14 con Voci di Joyce, è un anniversario joissiano, Joyce è l'Ulisse, è l'Odissea, ma è una lettura particolare che ha scelto Di Stefano. È una lettura particolare affidata a 5 voci di poeti cinesi, 3 donne e 2 uomini che racconteranno in qualche modo, prendendo spunto da un'immagine, da una frase, da una voce, da una suggestione dell'Ulisse di Joyce, racconteranno a loro modo una prospettiva sull'Ulisse. Alle 16 c'è Noemi Lerchia, che è una giovane scrittrice svizzera, particolare perché fa di mestiere anche la contadina. E questo si sente molto nel suo racconto, che è un racconto di piccola quotidianità, direi di piccole odissee che diventano grandi odissee del nostro tempo, proprio perché ci riconducono a temi fondamentali come la natura, il nostro rapporto con gli animali, con appunto tutto un mondo di vegetazione che forse abbiamo un po' dimenticato. E alle 17.30 c'è Tullio Pericoli, che è molto di più che Fulvia, tutti da Fulvia il sabato sera. Sì, molto di più che un vignettista e persino molto di più che un disegnatore, un grande pittore, uno dei grandi pittori del nostro tempo, che ha cominciato con dei ritratti ed è approdato, e ricordo che c'è stata una bellissima mostra di recente a Palazzo Reale di Milano, è approdato ai grandi affreschi di paesaggi legati alla sua terra, cioè alle Marche. Alle 21.00, sempre al Monte Verità di Escona, c'è Mailisse de Kerangal, che è una voce densa e importante che con le odissee ha molto a che fare. Sì, anche lei, appunto, odissee in termini un po' metaforici. C'è un libro straordinario che è Riparare i viventi, che racconta una vicenda personale di trapianto di cuore, ma De Kerangal arriva poi a raccontarci anche le odissee vere proprie dell'oggi con i migranti di Lampedusa.